la segreteria organizzativa, io do il mio numero, quindi se qualcuno povesse avere più informazioni o di contattarci lo può fare, il numero è 329 68 15 443, a disposizione anche per la logistica dell'organizzazione di questo importantissimo evento, che volevo soltanto, scusami se ti prendo un altro minuto, ho ascoltato un intervento appassato del mio amico Giacomo franzista, perché a primere il colpo i sedici sarà a otto giorni dall'elezione per il nuovo dell'amministrazione finale, io auspico che ci sia davvero un cambiamento comunico nella politica castellanese che ricordo essere non solo la città della nostra presenza, ma anche una città complicata nella provincialità dal punto di vista della criminalità di Stata. Comunque sarà il risultato della cittadina ci sia davvero un cambiamento nelle coscienze civile di questa mastoriata città. Bene, Saro allora ci vediamo sabato, lo ricordiamo allora, Castellammare del Golfo a partire dalle ore 10 di sabato, 16 giugno presso la sala conferenze del castello arabo normano, poi chi volesse avere più informazioni chiamarlo per comunicare la sua partecipazione potete anche fare riferimento al telefono di Saro Lauria che lo ricordo è il 329 681 5443 ciao Saro a presto allora Pietro